in collaborazione con design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sagno Consul Brokers SPA, via Monsignor Bologna 56, Campobasso, broker di assicurazioni Buonasera, benvenuti a quest'altra puntata di Molise a calci, puntata con la neve vista le precipitazioni nevose che sono cadute sul Molise nel corso di questo fine settimana di febbraio fine settimana davvero all'insegna del gelo il Campobasso in una giornata appunto per avere la conferma gelida a Fermo al Recchioni di Fermo, una città che si trova praticamente a 6-7 km dal mare trova la quarta sconfitta stagionale con tanto di peggiore prestazione dell'anno lo possiamo dire perché abbiamo visto praticamente tutte le partite del Campobasso quindi senza paura di essere smentiti con lo stesso punteggio il Termoli perde in casa contro la Maceratese sempre più avviata alla promozione in Lega Pro ma si può dire che adesso è un duello solo tra Fano e Maceratese la San Benedettese si è praticamente estromessa dopo la sconfitta proprio a Fano e l'Agnone vince contro il Giulianova e sale di due posizioni in eccellenza gioca solo la gioventù calciodauna Lisernia no per il rinvio della partita di Vasto Girardi e la gioventù calciodauna pareggia in casa con il Riccia ma con tante recriminazioni che vedremo nella Moviola buonasera Tabitha Morgese buonasera Gianni e buonasera a voi cari amici telespettatori che ci seguite da casa come sempre vi ricordo che siamo visibili anche in Abruzzo e nel Lazio i rispettivi canali 96 e 749 ci potete seguire in streaming sul sito internet www.telemolise.com senti abbighiamento che fa pandan con la neve è un caso oppure no? io pensavo che volessi anche anticipare un po' il carnevale volevo anticipare il carnevale però con questa neve ho detto perché no con questa neve preferito abbinarti al bianco poi hai visto Gianni neanche la neve ci ferma no ma assolutamente siamo sempre qui anzi il viaggio di ritorno da fermo è stato caratterizzato insomma da qualche defiance si può dire soprattutto nella parte finale dove abbiamo incontrato la neve sopra il viadotto in gotte però ce l'abbiamo fatta la pelle è stata riportata a casa allora questa sera siamo in compagnia di Giuseppe Formato direttore CB Live buonasera e Fernando Palange gestore bar Selvapiana buonasera buonasera ad entrambi allora Giuseppe 4 a 1 per il campo basso in quel di fermo insomma ti sei documentato perché sappiamo che ci segui in maniera costante assidua non è stata una buona prestazione ma è difficile anche poi andare a rintracciare i motivi di una prestazione del genere perché per esempio il campo basso ormai è una routine che si trovi sotto di un gol anche di due a volte però almeno contro il San Nicolò ci riferiamo all'ultima partita casalinga il cuore e il carattere ce l'aveva messo a fermo neanche quelli a partite come quella che ha giocato il campo basso a fermo Gianni possono capitare sono quelle classiche partite che sbagli sin dall'inizio o quasi perché comunque il campo basso nei primi 20 minuti si è disimpegnato bene comunque aveva cercato di fare la partita poi ovviamente non si può sempre recuperare la fermana ha giocato meglio del campo basso ha segnato il gol del vantaggio ha colpito una traversa a fine primo tempo poi nel secondo tempo ha legittimato il successo il campo basso è rimasto anche in inferiorità numerica può capitare solo che magari fa male prendere quattro gol in una trasferta che anticipa un'altra gara lontano dal Selvapiana e soprattutto la prima posizione si è allontanata ormai definitivamente Vullo durante la conferenza stampa della sua presentazione aveva detto io gioco solo per vincere dando qualche speranza di poter recuperare almeno sulla seconda posizione lui aveva parlato addirittura di Vittorio ormai i 12 punti dalla prima piazza fanno sì che la lotta come dicevi tu sarà appannaggio soltanto tra Maceratesi e Fano Sicuramente sì a questo punto ma a tuo avviso come si possono spiegare delle esclusioni dal primo minuto di Todino ci hanno detto che è stato influenzato infatti ha saltato l'allenamento del sabato mattina però ha giocato tutto il secondo tempo ecco fondamentalmente Todino ti chiedo perché è stato sempre uno dei migliori nelle ultime domeniche ma ho sentito anch'io la tua telecronaca ieri si parlava di del cambio anche del portiere sì che fosse stato vittima dell'influenza quindi se è stato influenzato la scelta è stata dovuta quindi non per motivi tecnici diciamo che Vullo è subentrato con l'inizio del campionato dopo la sosta natalizia oramai imminente in queste prime cinque giornate praticamente ha fatto ruotare quasi tutti i suoi giocatori a disposizione li ha provati tutti ha cambiato molto e ieri anche ha cambiato tanto inserendo in porta Maggi che già aveva fatto giocare in un'altra partita contro il Termoli forse a Conti gli ha dato una giornata di riposo visto che comunque non era stato impeccabile nella partita contro il San Nicolò e poi lui nella conferenza stampa di fine partita contro il San Nicolò ha detto di aver visto bene Fazio sia in settimana nella settimana precedente l'ultima partita giocata anche in quei dieci minuti contro gli abruzzesi ieri l'ha riproposto salvo poi sostituirlo e poi ha inserito anche Cianci che nelle ultime partite era andato in panchina quindi ha cambiato tanto Vullo in queste prime cinque partite alla fine sull'incontro di fermo ci sarebbe tanto ma anche poco da dire perché poi alla fine è stata una sconfitta netta senza non ammetterepliche dobbiamo riferire di un confronto tra la squadra e i tifosi avvenuto su un autogrill della A14 si sono incontrati casualmente appunto il pullman dei tifosi di alcuni tifosi il pullman chiedo scusa della squadra e alcuni tifosi che erano giunti con le auto a fermo e alcuni hanno proprio sollecitato a dare di più perché fare le trasferte per i tifosi sicuramente rappresenta un onere non solo dal punto di vista fisico ma anche finanziario quindi hanno spronato i giocatori a dare qualcosa di più perché ieri obiettivamente è stata una sconfitta simile ad un'umiliazione Fernando Palance Palance allora questo bar dello stadio che tra poco farà quanti anni? 30? 13 febbraio 85? sono 30 anni 30 anni allora che cosa è successo? questa disputa sulla vendita di alcolici che è stata inibita o quantomeno non del tutto perché la gradazione è stata abbassata a 1.2 questa è la verità dei fatti da premettere in 30 anni non c'è stata mai nessuna contestazione del bar perché qualche contestazione che c'è stata è stata fuori il cancello certo quindi questo è un fatto nuovo questa inibizione poi il nuovo sindaco con l'amministrazione eccetera hanno tirato fuori questo 1.2 che poi non ho capito questo grado alcolico se è per l'acqua minerale o per l'aranciata 1.2 è l'equivalente di un famoso cioccolatino non stiamo qui non stiamo qui a dire esattamente quale cioccolatino però è una gradazione bassissima diciamo che la birra è 5 4 esattamente 4.6 4.6 io so mi sono documentato che in alcuni stati anche di serie A tipo l'Artemio Franchi di Firenze il minimo la gradazione minima che si può vendere è 5 quindi da 5 in su rientra adesso 1.2 è bassissimo ovviamente in questa trasmissione caro Fernando non vogliamo fare un incitamento alla vendita degli alcolici allo stato di ebrezza eccetera però sicuramente con questa normativa con questa ordinanza nella quale è implicato anche il questore di Campobasso perché tu hai riferito del sindaco diciamo ti ha creato molti molti danni dal punto di vista proprio finanziario danni finanziari la si apre due volte al mese esatto praticamente tutte le consumazioni avvengono nell'intervallo quindi in quel quarto d'ora 15 minuti per partita due partite 30 minuti al mese 30 minuti al mese addirittura tu non puoi neanche vedere la singola giornata puoi vedere i minuti 15 minuti a partita mezz'ora al mese e non puoi vendere alcolici ma noi l'alcolico lo potremmo anche vendere perché noi siamo persone corrette chi è che non beve o chi beve troppo già sappiamo chi è e non diamo però se c'è uno faccio un nome un assessore per dirne una X che voleva qualche qualche grappino proprio perché durante i giorni freddi che abbiamo qua nell'intervallo vogliono bere qualche grappino tutto questo è venuto alla fine del mondo sembra che noi abbiamo venduto sempre roba ubriaca eccetera là non è uscito mai una persona ubriaca fondamentalmente questa direttiva chiamiamola così di vendere entro 1.2 non di più è ovviamente è finalizzata tu dici che è errato ok però si vuole prevenire che la gente raggiunga un determinato stato di ebbrezza però quello che voglio dire è che quindi sia di documento per l'ordine pubblico però quello che voglio dire se una persona si ubriaca all'esterno un metro fuori selva piana e poi fa il biglietto entra tutta la prevenzione va a farsi benedire ma se viene al bar che ha bevuto noi non gli diamo neanche l'acqua a un'eventuale persona su di giri un'eventuale persona che sta già ebbra ebbra allora gli possiamo offrire proprio un bicchiere d'acqua giusto quindi fondamentalmente vogliamo dire esistono le normative l'1.2 siamo persone corrette 5.0 4.5 però nell'applicare la legge esiste anche il cosiddetto buonsenso come no che deve fare da filo conduttore come no giusto Giuseppe che ne pensi insomma un commento anche da parte tua ma io non direttamente non sono informato ho sentito che la domenica non si potevano vendere alcolici però non ho capito se la direttiva è arrivata dal questore o dal sindaco allora ce lo può dire la direttiva proviene esattamente da chi? quale organo? il comune o la questura? questo fa scarica barina però chi l'ha emessa questa ordinanza? noi abbiamo chiesto al sindaco il sindaco ce l'ha rifiutato più di una volta ci aveva detto che ci avrebbe fatto delle permesse e poi è caduto nel nulla quindi ragione per cui noi possiamo possiamo vendere solo caffè e acqua minerale e tutte bibite gassate patatine ma vi siete rivolte anche al questore cioè c'entra il questore con tale provvedimento io non sono mai andato dal questore e né tampoco penso di andarci perché se la devono vedere tra di loro tra sindaco perché il sindaco dice questore questore può darsi che dico che il sindaco non si capisce chi è fondamentalmente rimane che tu non puoi vendere anche quel classico prodotto da stadio io so solo che in tutti gli stati d'Italia si vende il borghetti ecco lo stavo dicendo il classico prodotto da stadio che è il caffè e borghetti in tutti gli stati d'Italia anche nei paesi della provincia di Campobas negli stati e nei campi si sta vendendo il borghetti a Campobas non si può vendere a te sembra un po' eccessivo ok prego Giuseppe possiamo approfittare per chiedere un incontro agli organi come no abbiamo sollecitato anche nel corso di Domenica Sport il direttore parlava di una bicchierata in occasione dei 30 anni con lo stesso Fernando il 13 febbraio che è tra 4 giorni sono 30 anni che gestiamo questo bar praticamente mai non richiamo mai niente ora le mie figlie vogliono organizzare una bicchierata tra ragazzi che frequentano il bar eccetera si farà il 22 febbraio il omaggio per il compleanno di Selvagna per il compleanno dei 30 anni vogliono fare una torta facendo quello che vogliono che tanto io ho depositato le armi no no ce le hai sempre le armi ce le hai senti ci vogliamo sentire un attimo Vullo e Iaconi su Campobas Fermana 4 a 1 per la Fermana brutta sconfitta Fernando brutta capirai capirai allora i due allenatori di Fermana Campobas Tabita abbiamo sentito i nostri microfoni Salvatore Vullo e Osvaldo Iaconi per Fermana Campobas vediamo una brutta prestazione hai detto una partita mediocre non so se ti preoccupa questa prestazione io sono amareggiato ma non sono preoccupato perché la squadra ha saputo esprimersi prima molto meglio di questo questo non è il Campobas che conosco io assolutamente no devo andare a vedere perché sono preoccupato perché noi quando ignori le cause ignoro lo devo andare ignoro no perché mi sono già reso conto di che cos'è ha paura di giocare avete visto ancora palla a centro primo gol 5 passaggi indietro palla a portiere non è possibile ce lo diciamo da 15 giorni prego il San Nicolò è successo una cosa del genere ce lo diciamo da 15 giorni quindi questo è significativo per dare lo spunto all'avversario di attaccarti e quindi ripeto la Fermana ha giocato un'ottima gara una signora gara per carità però voglio dire io sono amareggiato per la prestazione della nostra partita che è stata veramente mediocre prestazione straordinaria risultato straordinario il campo basso praticamente è durato quasi mezz'ora e poi si è spenta la luce in casa rosso blu la sua squadra ha giocato a calcio quest'oggi io devo fare un plauso ai ragazzi perché voi non lo sapete ma questa settimana avevamo delle defizioni che ci hanno costretto a cambiare modulo noi finora giocavamo in un certo tipo di gioco questa settimana abbiamo dovuto cominciare fin dall'inizio a pensare in un altro a vedere un altro pensiero allora il Termoli ha perso in casa 4 a 1 abbiamo fatto anche delle riprese sulla curva Marco Guida che sta disertando ha fatto uno show però abbiamo dato puntuale notizia delle proteste dei tifosi del Termoli che è appunto in rivolta con la società giallorossa ecco vedete queste le immagini appunto del deserto del Cannars Ultras Termoli non c'era nessuno deserto Giuseppe nel frattempo il Termoli è caduto sotto i colpi della maceratese poteva anche essere messa in preventivo una sconfitta contro la maceratese per ora però è guerra in atto almeno abbiamo definito una guerra fredda tra Termoli e tifoseria speriamo che possa essere ricucita ieri abbiamo dato anche lettura di un comunicato a firma del presidente del Termoli Domenico Calarco che era assente per motivi suoi allo stadio ha ribadito in questo comunicato di aver saldato tutte le spettanze anche relative alla gestione della società quindi per esempio ad affitti delle case dei giocatori quindi questa è la situazione a Termoli Giuseppe per la prima volta guardo queste immagini davvero è desolante è brutta anche perché il calcio dovrebbe essere spettacolo così non lo è più mi metto anche nei panni però dei tifosi del Termoli che quest'anno li hanno visti tutti i coroli purtroppo in Molise ogni anno c'è una società che rischia sin dall'inizio del campionato sin dall'inizio della stagione di fare brutte figure l'anno scorso è toccato al Boiano quest'anno purtroppo se il presidente non si farà più vivo a Termoli toccherà proprio alla formazione giallorossa è brutto vedere gli sparti vuoti in occasione anche di una partita comunque bella quale può essere una gara come quella di ieri Termoli-Maceratese che dalle immagini che ho visto oggi al telegiornale sportivo sembra quasi che il Termoli avesse ammainato bandiera bianca dopo dieci minuti dopo un quarto d'ora già si era già sul tre tre gol subiti sicuramente non ha avvantaggiato il Termoli la situazione surreale che sicuramente si respirava ieri allo stadio Carnarsa speriamo che si possa risolvere questa situazione però le recenti esperienze anche dei club molisani hanno insegnato che quando si inizia cambia il presidente due o tre volte nel corso di una stagione cambiano allenatori quattro o cinque direttori sportivi sicuramente poi l'esito non è dei migliori e allora anche qui in contributi dallo spogliatoio del Termoli che ricordiamo è in silenzio stampa quindi ha parlato la maceratese Tavita e a questo proposito abbiamo sentito Giuseppe Maggi allenatore della maceratese vediamo Giuseppe Maggi l'ennesima vittoria di questa maceratese anche se all'inizio un po' il Termoli l'ha spaventato si sapevamo che non era una partita poi così facile il risultato adesso sembra che sia stato tutto semplice in realtà è stata una partita complicata pronti via abbiamo avuto un'occasione noi poi sono andati giù loro al primo calcio d'angolo hanno lavorato molto bene noi ci siamo fatti trovare un pochino fermi meritatamente perché hanno fatto un ottimo schema e sono riusciti ad andare in vantaggio poi abbiamo avuto una reazione abbastanza rabbiosa un po' il vento ha condizionato le giocate l'andamento della partita e poi una volta andati sul 3 a 1 nel secondo tempo dovevamo essere più cinici chiudere la partita perché poi con il vento così basta una deviazione fortuita poi andare sul 3 a 2 e riaprire la partita si sarebbe complicato ulteriormente però credo che la macertesa abbia ampiamente meritato la vittoria il sogno Lega Pro visto che ormai siete l'unica squadra rimasta imbattuta ormai è un passo praticamente c'è solo il Fano che vi potrebbe dar fastidio sì il Fano e altre 13 partite da qui alla fine perché comunque il campionato è lungo siamo appena alla quarta di ritorno le insidie sono dietro l'angolo è ovvio che noi nasconderci sarebbe un pochino non essere realisti noi ci troviamo in una posizione che ci piace ci vorremmo rimanere fino alla fine L'Agnone vince la quarta partita in campionato battendo il Giulianova e si prepara ad ospitare il Celano altra gara chiave in bocca al lupo all'Agnone per la partita di domenica prossima Tabita Nel post gara abbiamo sentito Giuseppe Donatelli allenatore dell'Agnone e Giuseppe Tortorici allenatore del Giulianova vediamo Quello che mi è piaciuto di più di oggi è che abbiamo sicuramente battuto secondo me una buona squadra però la squadra ha avuto molto equilibrio nel cercare poi di gestire la partita soprattutto nel secondo tempo forse il primo tempo dopo essere andati in vantaggio ci siamo un attimino tirati leggermente troppo indietro invece nel secondo tempo i ragazzi hanno cercato di contenere la reazione del Giulianova per cercare poi di mettere a segno un altro gol non ci siamo riusciti Oggi devo dire che non ci siamo espressi come nelle partite precedenti anche incontrando squadre più blasonate dell'Agnonese però c'era più cattiveria calcistica diciamo oggi invece un po' ci è venuto a mancare soprattutto all'inizio della gara dove abbiamo subito questo benedetto gol che poi si è cercato di rimediare di cercare di arrivare al pareggio però non ci siamo riusciti bravi loro purtroppo per noi trovandoci nella misca ci tocca lottare partita per partita Francesco Giorgini era squalificato quindi Tortorici è il vice allenatore del Giulianova Tabita fermiamo per qualche minuto di pubblicità ci vediamo tra poco restate con noi di nuovo in studio dobbiamo vedere la Moviola insieme il primo blocco delle partite delle squadre di Serie D insomma ieri male il Campobasso Fernando 4 a 1 una bella scoppola io sinceramente non vado più fuori da qualche anno comunque quando ho sentito per televisione 4 a 1 proprio vuol dire che non c'erano adesso che prevedi per Pesaro tu a Pesaro sei stato e hai detto che hai fatto il militare no 60 anni fa 65 anni fa non proprio l'altro ieri 65 anni fa allora a Pesaro dormivo all'albergo Rossini non ci sarà più questo albergo no no c'è 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 esiste e all'epoca il prefetto di Pesaro era il fratello dell'onorevole Colitti ah quindi di Campobasso di Campobasso ricordi della gioventù quanti anni avevi 25 ho fatto 15 giorni in borghese e poi sei tornato giù ridotto attitudine militare ram no era c'era un un colonnello di Campobasso che conoscevo e mi ha dato il via e sei tornato qui diciamo che l'Italia è sempre così l'Italia è sempre così anche 60 anni fa Giuseppe allora vediamo la moviola quello che è successo per le molisane della serie D certamente vediamo il primo blocco della moviola a cura della direttora Antonia Di Lallo in collaborazione con con le immagini siamo a Fermo l'unica vera grande occasione avuta dal Campobasso contro la Fermana seguiamo dopo questo batti e ribatti la palla viene spedita in avanti c'è un retropassaggio di Grieco vedete di testa al proprio portiere si inserisce Miani torniamo un attimo dietro insieme al nostro regista Donato Mignogna perché Miani avrebbe potuto sfruttare decisamente meglio questa opportunità vedete qui andiamo avanti il retropassaggio ancora avanti in questa circostanza vedete il retropassaggio sbagliato si inserisce Miani ma proprio in bocca al portiere della Fermana Savut e quindi sfumo la più grande occasione per il Campobasso qui sarebbe passato in vantaggio terzo gol della Fermana ecco fermiamoci qui proprio nel momento del tiro perché non si vede a centro area quindi non abbiamo l'inquadratura larga però se seguiamo il guardaline sullo sfondo che è in perfetta linea resta con la bandierina abbassata quindi gravissima ingenuità dei centrali del Campobasso poi Minadeo prova ad alzare anche la mano ma in realtà la posizione di Terrenzio che va a siglare il terzo gol della Fermana era molto probabilmente regolare quindi grossa ingenuità della coppia centrale del Campobasso che ha lasciato in sostanza un giocatore sul dischetto del rigore tutto solo per siglare il terzo gol al Civitelle occasione per l'Agnone per raddoppiare seguiamo la bella azione di Ricamato torniamo un attimo dietro sulla destra Ricamato che guadagna palla con una finta sbilancia un paio di avversari mette in mezzo un bellissimo pallone un bellissimo cross arriva Saltarin qui avrebbe dovuto sicuramente segnare invece appoggia di testa incredibilmente al lato sfuma l'opportunità per l'Olimpia proteste dell'Olimpia agnonese al trentesimo minuto del secondo tempo ancora Ricamato che mette in mezzo per Lattarulo si gira Lattarulo qui l'Olimpia agnonese voleva un calcio di rigore ma se seguiamo piano vediamo che il tiro di Lattarulo va a finire prima sulla pancia di Sborgia vedete la pancia di Sborgia e poi probabilmente anche sul braccio in questi casi dice chiaramente il regolamento che non c'è assolutamente volontarietà quindi qui ha fatto bene l'arbitro il signor Pasciuco di Albano a non concedere il calcio di rigore all'Agnonese all'ottavo minuto del primo tempo al Cannarza grave indecisione di Marco Nato vedete il portiere del Termoli che esce andiamo un attimo dietro perché poi probabilmente ha paura di toccare con le mani il pallone fuori aria ecco andiamo avanti fermiamoci qui vedete non prende il pallone perché si accorge probabilmente di essere con le mani fuori aria quindi per non farsi cacciare ritira il braccio però in sostanza favorisce il recupero di Villanova che vedete tutto solo con il sinistro va ad appoggiare nella porta sguarnita gravissima indecisione di un portiere pure esperto come Marco Nato al 22esimo del secondo tempo opportunità per il Termoli per accorciare le distanze da calcio d'angolo di Romano c'è questa sventola questo tiro al volo di Di Matera vedete con il sinistro ma qui è bravissimo il portiere della maceratese Saitta che va a deviare il pallone vedete il tiro di Di Matera Saitta respinge poi con calma la difesa della capolista allontana la minaccia allora di nuovo in studio dopo la moviola Fernando il prossimo 22 febbraio Campobasso Recanatese allora no lo so che il 13 febbraio c'è la ricorrenza dei 30 anni di Selvapiana però Campobasso Recanatese del 22 del 22 purtroppo c'è anche la ricorrenza del sesto anniversario della morte di Michele Scorrano il 22 febbraio cosa farete a Selvapiana la tua famiglia cosa ha deciso di fare vorremmo offrire ai ragazzi della Curvo una bicchierata non so un bicchiere di birra per ciascuno con qualche passiccina ma si può fare se non si può vendere la birra cioè voi la volete offrire però se non si può vendere l'alcol oltre 1.2 ma noi appunto gli chiediamo il permesso dopo la partita quando quando la polizia è andata via quindi dopo la partita arrivederci inviti il questore ma per me posso invitare il questore il sindaco tutti gli amministratori ma quelle siccome ce l'hanno contro di me penso che non accetteranno nessuno vabbè così allora noi facciamo la bicchierata Giuseppe brindiamo così si dimostra che si può bere tranquillamente non voglio incitare all'alcol se non ci fanno dare la birra compreremo lo spumante per bambini quello analcolico no però dai no non vale non vale come brindisi o no? non vale per i 30 anni di Selva Piana tu che ricordi allora ricordaci quando hai inaugurato il bar dai quel giorno noi l'abbiamo inaugurato con la partita della Juendus allora tu dici in quel quarto d'ora vengono le persone la penso che sono venute più di un quarto d'ora ci sa quanto che afflusso hai avuto in quella giornata no c'è stato un afflusso perché c'è stato là erano quasi 50.000 persone perché a un dato momento sono rimasti aperti i cancelli e poi si è entrato e poi a Molinarra l'hanno denunziato per strage e strage di che? va bene non ti fa la causa per strage la denunzia per strage perché aveva aperto i cancelli va bene dai strage allora Giuseppe si fa questa bicchierata dopo Campobasso Recanatese sì però per evitare che poi chiudano il bar approfittiamo per invitare il sindaco e per chiedere i permessi se no poi la bicchierata non ce la fanno fare ma dopo la partita penso che la possiamo fare la bicchierata io sono il padre qua praticamente l'azienda è declinata ai figli perché loro hanno la licenza eccetera io sto ti sei un po' defilato io sto fuori quindi sono loro se vogliono invitare il sindaco questore ma sicuramente ma sicuramente saranno presenti l'autorità dicono di sì dietro la telecamera dietro la telecamera dicono tua figlia dice di sì però il giorno del brindisi ci sarai dietro al bancone perché i trent'anni devi festeggiare tu ma io dietro al banco non ci vado quasi più però il ventidue ritorni dietro al bancone visto che c'è questa ricorrenza non è vero ti vedo ti vedo la domenica ma io non io posso fare qualche tazzo di caffè però lo bevo io però scusa già prego data l'occasione trent'anni di attività devono essere festeggiati almeno con uno spumante hai sentito da vita che ha detto Fernando per i trent'anni di attività ho capito ho capito ma noi ce l'abbiamo c'è lo spumante ce l'abbiamo non si può vendere però ci sta ci sta 10 bottiglie 20 bottiglie quanto te ne serve facciamo una bottiglia per tutti gli ospiti almeno così 1.2 mettiamo che ci stanno mille persone capobassore canadese quante bottiglie serve mille persone questo vediamo i calcoli si fanno i calcoli si fanno non sono fatti miei vuoi dire dipende da quanto si beve ma poco si beve poco allora ritorniamo un attimo a Fermana a Campobasso perché noi siamo andati a Fermo bella città capologo di provincia delle Marche circa 40.000 abitanti una bella città attaccata a un altro bel centro dell'Adriatico che si chiama Porto San Giorgio tapita abbiamo realizzato una clip una cartolina sul viaggio si esattamente una clip realizzata dal nostro Daniele Ricciuto vediamo a presto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti